Lady Gaga è una delle personalità più dirompenti di tutto il panorama musicale. Nella sua carriera ha fatto parlare di sé non solo per la sua musica, ma anche per i suoi look stravaganti e le sue performance live mozzafiato. Memorabile quello del Super Bowl. Lady Gaga ha confessato di essere stata un'adolescente vittima dei bulli, in particolare per il suo aspetto fisico. Veniva presa in giro perché è troppo piatta, per il naso grande e per la dentatura cavallina. Lady Gaga ha ammesso di aver soffocato la sua risata per anni, perché veniva continuamente presa in giro per il suo modo di ridere. Lady Gaga ha inoltre confessato di essere stata stuprata da un produttore discografico quando aveva 19 anni, un episodio drammatico che non smetterà mai di tormentarla. Quegli anni hanno lasciato una ferita profonda dentro di lei, ed è questo il motivo per cui all'inizio della sua carriera ricorreva in maniera pesante a parrucche e travestimenti. La sua hit, Born This Way, scritta di suo pugno, rappresenta un vero e proprio manifesto alla diversità e un invito a essere sempre se stessi. Non per niente i suoi fan si fanno chiamare Little Monsters, piccoli mostri, proprio per sottolineare l'importanza di andare contro i dettami di una società che ci vuole omologati e spersonalizzati. L'album Joanne, che è l'ultimo lavoro di Lady Gaga, rappresenta un diario a cuore aperto della sua vita, senza più paura di mostrarsi agli altri per quella che è veramente. Ad oggi, Lady Gaga ha venduto quasi 30 milioni di dischi, ed è l'unica artista ad essere riuscita a piazzare 4 album consecutivi al primo posto della Billboard 200. Ha vinto ben 6 Grammy Awards, 1 Golden Globe, 3 Brit Awards, 13 MTV Video Music Awards, 10 MTV Europe Music Awards e 9 World Music Awards.